16 nuovi casi in provincia e di questi soltanto 3 a Caltanissetta, questi dati secondo l'aggiornamento dell'Aspanissena dell'11 settembre relativo alle 24 ore precedenti. I 16 pazienti positivi al SARS-CoV-2 sarebbero tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza sono 4 di Gela, 3 di Caltanissetta, 2 di Mussomeli, 2 di Resuttano, 1 di Mazzarino, 1 di Riesi, 1 di San Cataldo, 1 di Serra di Falco e 1 di Sutera. In tutta Italia invece i nuovi casi sono 12.317 e di questi in Sicilia 707. Questi i numeri dell'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente che arrivano dal bollettino dell'11 settembre scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute.